Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come avete letto dal titolo, sì, abbiamo il lancio del trailer ufficiale di Dead Space Remake, il fantastico capolavoro di Electronic Arts del 2008, riprende vita grazie a questo fantastico remake tutto next gen, quindi compatibile per PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e per PC. Ma adesso guardiamoci questo fantastico trailer horror fino all'ultima goccia, dove nel finale dice l'umanità finisce qui. Mamma mia da brividi, non vedo l'ora ragazzi, la data prefissata è il 27 gennaio, io personalmente vi consiglio l'acquisto a occhi bendati, ma adesso buona visione. I think it's me. It's all falling apart here. Hey Isaac, you coming? Where is everybody? Up there! Hit it! No! This transformation, it's remarkable. Don't you want to be reunited with the people you lost? The homecoming will be fully defiant. There's still a way out for us. But we don't have much time. We don't have much time. We don't have much time. We don't have much time to端os. Let's two goals we lost. The homecoming will be light and we won't catch each other time until it proves that the homecoming is very special. Oh my God, come Nobody wants to offend me on me. Let's go to www.sarget.grozco.edu We have a really good idea. I'm going to see you on all the show up.